ouch maledetta sedia ok allora ho bevuto un po di coca mi sta ritornando il gas ok devo mandare una scansione di questa cosa qui come si chiama insomma la ricevuta è venuta dalla conferma di aver ricevuto che aveva mandato vediamo un po' come fare sconsione non è e 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 che si dice? conferma conferma e 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